Dell'amichevole contro l'Ausburg, quasi nessuno dei presenti ricorderà risultato e azioni in campo perché distratti da tutto ciò che accadeva attorno al rettangolo di gioco. Dall'arrivo del neodifensore brasiliano Nathan, ufficialmente un giocatore del Napoli da poche ore, alle assenze pesanti e preoccupanti di Zielinski e Ozymen, i famosi infortuni di mercato, come ha lasciato intendere il tecnico Garcia a fine gara, vinta 1-0 con gol di Rachmani, con tutta la sincerità e genuinità che lo contraddistinguono. Il giocatore polacco sembra quello più vicino alla partenza e a confermarlo arriva anche un indizio social della moglie del centrocampista azzurro. Lady Zielinski, direttamente via Instagram, riposta nelle storie un messaggio di saluti di un tifoso napoletano. Lal Ali potrebbe far spese in Italia e comprare in un pacchetto solo il polacco e Ozymen, su cui è pronta un'offerta da 175 milioni e un ingaggio faraonico per il nigeriano. Una situazione, quella del centrocampista, che potrebbe sbloccarsi in fretta, siccome il club saudita ha chiesto una risposta celere agli azzurri, perché in caso di risposta negativa si dirotterebbero su altri obiettivi. Ad un bivio, anche la situazione di Ozymen, il nigeriano, deve valutare se accettare la proposta faraonica degli arabi o continuare ad investire nella sua crescita professionale e personale a Napoli.